eeeh... si fa pure pericolo non sai non dico a stare un bullizzato non ti può essere un uomo non so che non guardare 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 siamo ristratati sshhh stupendo 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 o un'altra stupendo è che il tema devi tenere ma è la prossima avviatrasporto? trasporti eccezionali? vai per per staff sono solito bullizzato guarda quanto lo davano a pizzi da russai guarda, chi se ti manda la patata mica se non potava ecco per puczuzi per puczuzi oh ma non ho mai rischi guarda quanto lo davano vado a fare tutto bullizzato tutto solo con una rascata nella borsa per giunta con una piccola fontana oh un piccolo lago nella borsa guarda come lo trasporta con una palla con una piccola la taglia di me oggi è il compleanno di rosario di me poi 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 a combino